Ciao amici di Barkman, ecco un'altra piccola clip. Allora, spesso qualcuno mi chiede come faccio gli ancoraggi per la corda singola. Ecco, vi mostro questa tecnica che è molto diffusa, non è che l'ho inventata io. Semplicemente, una volta che abbiamo installato la corda sull'albero dopo aver lanciato la sagola, non si fa altro che fare un nodo farfalla o butterfly, eccolo, lo vedete. Ci inseriamo una carrucola, io prediligo la Pinto Pulley, prendiamo l'altra corda da tirare su e chiaramente fissiamo tutto all'interno dell'asola del butterfly con un moschettone. Ecco, a questo punto io posso andare ad installare la corda hissandola su, come vedete sta salendo, ma se avete notato ho aggiunto una seconda corda che utilizzo per il recupero. In questo caso questa corda mi servirà anche come corda di soccorso, perché installando da terra la corda di lavoro e procedendo già in fase di risalita a fare delle soste per lavorare direttamente, non avrei la possibilità di essere soccorso. Allora che cosa faccio? installo questa corda che è sia una corda di recupero del sistema, diciamo dell'ancoraggio, ma una volta che ci sono appeso io dall'altra parte diventa anche una corda di soccorso. Allora, niente, adesso vado a salire, installerò il sistema e vi farò vedere poi il secondo step.